Vediamo, vediamo, facciamo un po' e un po' magari, perché tu non hai che fai live tutti i giorni, e poi ci organizziamo, non ti preoccupare. Tanto poi, se la frase è solo per una settimana, poi pure non è staccipopio, vedi, insomma, poi vediamo. Comunque la live l'abbiamo avviata. Va bene, noi siamo qua. Chi si vuole venire? Assicurati che stai condividendo l'audio per piacere. Ah, sì, ti sento, ci sei, ci sei, buona buona. Va bene, ok, tu sei in party, possiamo avviare? Facciamo un duelo, allora. Ok, lo che ti dico, allora, lo che ti dico, perfetto. Ma non ho capito... Ah, ecco, non pareva stato, dice, com'è che su PC ho già detto che foro non stavamo vincendo? Mi dici se tu senti la mia PlayStation in cuffia? Eh, aspetta, sono più uscito nella mia, sento la mia PlayStation. No, al momento no. No, ok. Sta facendo... Non è neva casino, però... Sta facendo... Ecco, il Rainbow Six che fa proprio... Io neanche a terra. Eh, ma no, se no adesso il Rainbow Six è anche cotto. Però la cosa strana è che non lo fa in game, ma lo fa mentre sta caricando. Cioè, la cosa mi fa usare lì in bestia? O te, siamo contro un clan che si chiama TP. Eh, dovremmo farci anche noi troppo potenti. Dovremmo farci pure noi il clan nostro. Non ci ho pensato che continui a dimenticarmi di togliere questa armatura bruttissima il mio centurione. Tra l'altro ho beccato un avversario, non so se hai visto il video, ho beccato un avversario che c'ha l'emoto centurione che si vede la faccia. Lo voglio pure io, quello è bellissimo. Poi ho visto, ho visto pure che su Xbox è bellissimo, immagini su Xbox, nella regione lina. Com'è quel kibi del legionario? O non l'hai messo tu? Di che stai parlando? Su Xbox, il clan della regione lina su Xbox. Cioè, immagini un mini legionario. Veramente, no, io non ho fatto niente. Il segnino... Capito, sembra ancora tranimato, sembra. Ma ti giuro che non... Se l'ho fatto, l'ho fatto e non mi ricordo più, ma non ricordo di averlo fatto. Perfetto. Ma perché abbiamo un clan della legionaria su Xbox? Sì, io su Xbox facevo le cose, se è riuscito di un legionario lina. Con l'immagine del mini legionario di For Honor. Piccolino. Magari che tu... Veramente? Che figa? Sai che non mi ricordo di aver fatto sta cosa? Forse l'hai messo anni e anni fa. Con darsi. Vabbè. Io non ricordo le mosse, però... Questa non è buona. Questa è morta, eh? Questa è po' morta. Perché il mio personaggio ha deciso di non parare più? Mannaggia alla miseria, ha uno scudo di vita. Ah, non è morto. Ha uno scudo di vita, non lo fare... Muah, ha fatto la massa caricata, mannaccia. Eh, vabbè, non ti preoccupare. È stato bravo, gli è stato bravo. No, è stato pure scarso io, devo dire la verità. Però si nota la differenza tra i 60 fps e i 30, eh? Cioè, qua vedo che il mio personaggio non reagisce tanto velocemente. Cioè, si nota, la nota la differenza rispetto al PC. Sì, ma la prendo... Ma la prendo tra poco, aspetta, la prendo subito. Ma l'entro qua, la prendo... E sta di là non la usa nessuna, ragione. Aspetta, la prendo. Come la prendo? Ah, ti lascia sto colpo che... Che ti bomba, ma guarda che è troppo bello. Potrei fare una cosa infame o no? Andiamo a finirci la tutela in atta. Yeah, siamo una sette onorevoli. Perché il mio personaggio non risulta? Ha deciso di non risultare. Guarda, non risulta. Che stronza, perché? Ma anche loro, però non ci hanno colpito. Ah, il messaggio sarà Giovanni. Vabbè, quando viene facciamo l'odetto, possiamo fare polvo. Bastardo! Bastardo! Dai, questo fa una cosa stransissima, l'odio! Allora, mi ha ucciso, eh, vedi? Mi ha ucciso molto male. Che cattivo! Attento, aspetta, diamo, fa il disonorevole. Attento, bravo! Ah boh, è morto. Ma che stava facendo? Quella stava alla ferma! Ah, subito la cosa! Comunque il mio rocket rig ha appena finito. No, raga, devo dire che è stato molto... Eh, sono dovuto stare concentratissimo su questo, eh, non è stato per niente facile. Ah, finalmente esulta il mio personaggio, eh. Un mese ci volevo. Ah, comunque scusami, mi stai dicendo che Giovanni sta arrivando? No, no, era un'altra cosa, non ho tipico, non ho tipico, non ho tipico, non ho tipico. No, ma fatto, ma fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mannaggia a noi. Sarà leale o no? Ciao, mister biondo, certo che è online sto gioco, che intendi? Forse non ho capito io bene la domanda. Che intendi mai online? Stiamo giocando contro il trovo, stiamo perdendo. Ma in realtà non la stiamo pareggiando, stiamo pareggiando contro altri avversari umani. Ah, bella sta... Bella sta esulta questa emote, me la vogliamo chiamare. Ma dai, senti, io non sono due spade, è forte e mi canterà bene. Vado io, vado io. Volevo fare un'altra cosa, ho sbagliato. No, non mi aspettavo, sai che non mi aspettavo di colpirlo? Maledetto! Stronzissimo! Quanto cazzo, quanto l'odio questo, maledetto! Eh vabbè, questo vuole morire, questo vuole morire. Contro, sì sì, contro persone reali, assolutamente sì, assolutamente sì. Obbito arrivo. Dai, ce la puoi fare, vedo che è stanca. Oh, mi sto impressionando. Dai, fagliela spazzata. Eh, aspetta, non è intervenire qua. Non sto intervenendo, non sto intervenendo. Bella. Ma sempre sta attacco qua, non me lo parla. Bella, buona, 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 buona così, buona così. Scusami, 5 su 5. Comunque adesso, scusami, biondo, diciamo, eravamo un attimo concentrati in combattimento. Qual buon vento ti porta da queste parti? Come stai, zitto, come va? Tutto bene? Scusa se non ti ho... Quanto costa? Allora, ci rende, nel senso, no, non so se adesso è in offerta, perché mi pare che il prezzo pieno sia 30 euro, non mi ricordo, però Goddard si lo trovi spesso in offerta tra i 10 e i 15, anche perché è abbastanza vecchiotto come gioco. Però è simpatico, devo dire la realtà, cioè, richiede un po' di tempo per impararlo bene. All'inizio non si capisce granché, poi specialmente se giochi in le partite quelle lì, tipo 4 contro 4, là non si capisce niente se giochi senza sapere minimamente il gioco. Per cui magari all'inizio conviene fare qualche round 1v1 per capire bene le meccaniche. Sì, 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 no, è carino, sono d'accordo con te. Allora, alla lunga, almeno come sono io, mi piace, ma non riesco a giocarci per troppo tempo. Se in genere ci gioco, mi diverto, una mezz'oretta potevo cambiare perché diventa un po' ripetitivo. Ma è molto bello, ci vuole molta abilità, è molto basato sui riflessi e poi sulla conoscenza del personaggio. Io, per esempio, mi sono, tra virgolette, anche se, vado, quanto è brutta sta armatura, mi scordo sempre di cambiargliela. Io mi sono specializzato col centurione, perché ne conosco le combo, più o meno conosco i tempi di attacco e di reazione, per cui mi sono abituato. Già se prendessi un altro personaggio, anche conoscendone le combo, è un po' difficile, perché poi ogni personaggio è caratterizzato in un modo abbastanza unico. Come un picchiaduro, cioè nel senso è come se tu stessi giocando, che ne so, non so se ti piace più, tipo Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat. Anche se lì non è che c'è questa differenza così marcata. Qui è abbastanza marcata la differenza tra i vari personaggi, in termini sia di combo, sia di, diciamo, tempo che impiega ogni mossa, non so come dire, i time attack, eccetera. Quindi ci vuole una profonda conoscenza del personaggio, però sì sì, è fatto molto bene, specialmente se cominci a imparare quanto meno le meccaniche di base, e c'hai un po' il minimo di riflessi da molta soddisfazione, che si ti va dall'ultimo secondo, i perri, poi appena impari qualche combo efficace. Per esempio io mostro un po' di difficoltà, perché nell'ultimo aggiornamento il centurione me l'hanno cambiato, l'hanno reso più lento, le sue mosse, cioè, la mossa caricata dura più tempo, il pugno caricato dura più tempo, l'hanno un po' depotenziato, e quindi mi sto riabituando. Ora, questo che mi vedi contro, per esempio, vabbè, un po' stupido però, cioè era facile da fare quell'attacco. Vabbè, perfetto, questo ce lo siamo fatti veloce veloce. Già hai perso. Un secondo, rispondo una cosa. Ehi, me lo dicevi, lo facevo durare di più. Comunque, a biondo, non so se preferisci chiamo The Mr. Biondo o se a biondo ti va bene. Tu, quindi non avevi mai sentito parlare di For Honor la prima volta che lo vedi. Vabbè, mio fratello è praticamente morto. Prima volta, ok. Allora, Giovanni, se poco ci raggiunge, appena sceso di base. Va bene, quando arriva, poi, magari, facciamo qualcosa insieme anche a lui. Ok, ma tu sei ancora vivo, sei morto, che succede? Come hai fatto a continuare a giocare? Perdonami, se sei da rispondere la città. No, a telefono. Ah, a telefono. E mi hai riuscito a continuare a giocare? No, è ucciso questa, ma l'ho ucciso. Bruttissimo. Allora, diciamo che io adesso, volendo, potrei fare il bastardo e andare ad attaccare l'ultimo contro uno, però si tende, almeno io, tendo ad essere più o meno onorevole ai duelli da aspettare. È stata brava questa. Ho fatto malissimo. Non ce l'ha fatta. E la chiudiamo qui, bella. 2 a 0 è andata. Fai presto, fai presto. Comunque, biondo, se compri il gioco e vuoi giocare con noi, a noi ci fa sempre piacere avere compagni, specialmente qui in genere ci giochiamo in tre. Avere il gruppo da quattro sarebbe figo. Quindi se lo compri i compagni di gioco ce li hai. Bua caccia, mi si sta scaricando l'impossibile. Cioè, è sì che si sta scaricando le cuffie che si stanno scaricando. Solo che devo vincere velocemente. L'ho detto. Devo chiuderla qui. Ah, mamma mia, devo attaccare sia il cavo alle cuffie che al controller. Non so bene come fare. Ma te, un quaglio. Mi ero fermo. Questa è proprio una squillo questa. Ok, dai. Allora, un secondo. Devo mettere a ferire. Doveva ammazzare la moto più disoluzione. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Stai tranquillo, l'ho ucciso. Allora, devo attaccare tutta la cuffia, se no improvvisamente la gente non mi sentirà più. E rieccoci qui. E rieccoci qui. Biondo, te, quando giochi online, quali sono i giochi che ti piaccia di più? In genere, che cosa è che giochi in multiplayer? Se giochi in multiplayer, puoi anche rispondere no, guardi, io preferisco giochi in single player, va bene. Però, se giochi in multiplayer, c'è qualche gioco che ti piace, c'è quello che giochi in cui sei bravo, o qualche gioco in cui non sei bravo, ma comunque... Noi non siamo bravi in niente. Però ci piacciono tanti giochi. Tu più o meno? Obito, ci sei ancora? Abbiamo perso vito. Ha anche lasciato la nuova? Aspetta, non credo. No, 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 no. Vabbè, forse non mi hai sentito, non fa niente. Spero che almeno mio fratello torni. Quanto è brutta sta armatura, mi scordo sempre di cambiargielo. Ci sei? Oh, ti stavo facendo alcune cose. Eh, l'abbiamo capito. Però, dai, sono pronto... sono altri, giusto? Siamo gli stessi. Sì, no, 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 altri, altri. È arrivato Giovanni? No, 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 però ha staccato la Playstation. Va bene. Buona. Avevo chiesto a Mr. Biondo qual era il gioco e lui in genere a cosa giocava online, però mi sa che non ci stava ascoltando. Più. Ah, mannaccia. Evidentemente l'abbiamo annoiato, peccato. Ci mancherà sempre a Mr. Biondo. Ma io sto spesso a Mr. Biondo in queste parti, il nostro lavoro. Ah, no, rieccolo. Mr. Biondo, scusi, avevo chiesto, forse non mi hai sentito. C'è pure su PC. Certo, c'è su tutte le piattaforme, tranne la Switch, ovviamente. Vabbè, ovviamente, no. Potevano farlo su Switch. La fine non c'è Ascografi Q, in francese, si poteva fare Undergrade. Sì, comunque c'è su PC, su Xbox, su PlayStation. Io oggi ho fatto... Ho trovato, scusate, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ti avevo chiesto tu, in di solito, a che giochi giocavi in multiplayer, se ne avevi qualcuno che ti piaceva di più, qualcuno in cui ti sentivi più bravo. Comunque, oggi, verso le 7, ho fatto una live su PC, ho fatto una mezz'oretta di due lì, uno di uno. Giocandoli da PC. Comunque, insomma, no, niente. Prima ti avevo chiesto quali erano tu, in genere, a che giochi giocavi. Un po' scemotto questo, però. Ah, ok, questo, no, l'attacco non si blocca. Ok, ora sono senza stamina, devo correre, devo scappare, devo scappare, devo scappare. Scappa! Che fai, Joseph? Eh, no, eh, basta. Perché questa cosa? Joseph, perché? Metterlo in difficoltà, no? Ma perché? No, prima sono stati desideri contro noi, prima. Ma chi, quando? Io stavo giocando e mi hanno attaccato con il primo round. Ma è il primo round. Ma perché hai dovuto fare sta cosa? No, eh, basta. Io gioco a tutti i giochi, non faccio differenza. Però ne avrai qualcuno che ti piace un po' di più degli altri, oppure dici, guarda, io gioco a questi giochi. Tutto, 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 mi piace pure noi in genere multiplayer facciamo una serie di giochi che sono For Honor, Battlefield. Scusa un secondo. Minchia, non sono riuscito a pararne uno. Andò mi ha fatto perfetto, mannaggia, non sono riuscito a pararne uno. Dicevo, noi giochiamo a For Honor, a Battlefield, a Rocket Link, a Code 2v2. Ma è normale, questo fa sempre la stessa mossa. È counter, Ayala, se fa sempre la stessa, scusa. Vedi che loro sono onorevoli, non dovevi attaccare loro. Chi ha aperto la porta? Ma chi ti ha aperto la porta? No, chi ti ha aperto la porta? Preferisco giochi multiplayer. Comunque, guarda, te lo sei meritato, non dovevi fare quella prima, non dovevi attaccarlo. Ma guarda, si picchiano tra di loro, guarda, è molto competitivo. Ok, adesso vado più concentrato, prima di sono stati un po'. Tra poco avviene pre-Marco. Io, Tell, tra poco avviene pre-Marco. No, c'è una VV2. Ma di qua, ho giochato. No, non l'ho schivata, la valedizione. Ok, questa non si para. Su VV2 spammi? Niente, mi sono fatto fare, mannaggia, mi sono fatto fare. Vabbè, di quelli che ho detto io, tra For Honor, Rainbow Six Siege, Battlefield V, Rocket League e Code VV2, quale, diciamo, ti piace? Dovresti scegliere uno tra questi, però quale ti piace di più? Anto, devi counterare quando ti fanno questa cosa. Schiva, schiva! Schiva! Hai perso, non hai perso. Dai, ah! Sì, sì, ho prenduto. Vuoi una app di UVV? Guarda di qua. Facciamo, facciamo attenzione, dai, possiamo ancora farcela, possiamo ancora farcela. Ah, parla in italiano. Vieni con noi. Ci fai di quanto sei forte. Concentrate, Abito! Non te lo faccio fare quello che hai fatto prima il bastardo. Non ti saprei dire. Va bene, però un uomo dalle idee chiare. Dove sta? Dove state combattendo? Qui, ma me lo ammazzo. Perché non lo attacca? Giotello! No, volevo uccidere lui! Volevo uccidere lui! Che c'hai fatto? Perché volevo uccidere lui! Don McClust! Che figura di merda. Guarda che modo attacca, te lo dico. Anto, senza paura, dai, c'è uno spot di vita. Ma non è la paura, ma non è la paura. Bravo, attacca, 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 dai, che hai vinto, dai, che hai vinto. Bellissima, grande, Abito. Grande, Abito. Anto, ma te, ma salvo la clip di che te vissi che tu sei morto. Sì, 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 no, su TikTok viene bellissimo questo video. L'hai visto te, l'hai visto te, l'hai visto te che sei lanciato per morto, l'hai visto? No, salvala, salvala, questo video è bellissimo come video. Dai, dai, qua ci giochiamo tutto per tutto, mi raccomando. Qua ci giochiamo tutto per tutto. Aspetta, questo vuol... No, come, perché mi ha preso a volo sto bastardo? No, è finita. Ok, perso proprio... Uh, che culo mi ha salvato lo stipite della porta? Santo stipite. Il santo stipite mi ha salvato? Ci scherzi? Maronna santo! Che cazzo prende il mio personaggio? Perché va così lento? Merda, 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 merda. Questo è morto, sì, siamo in live, questo è morto, te, tu come te la fassi? Io maluccio. Ma te arrivo. Piuttosto maluccio, ma penso di essere appena, penso di essere morto, te lo dico. Ah no. Vinciamo anche se... Lo stipite mi ha salvato di nuovo! Lo stipite mi ha salvato di nuovo! Ma perché mi continuo, mi continuo a far parriere da questa? No, non la lascia, ma perché fai questa cosa, brutta? Ma te... Ok, io l'ho fatto io a lui il perry stavolta. Salva lo stipite, ti prego, salva lo stipite. Va bene, salverò il santo stipite. Un secondo che salvo la clip video. Perché tra YouTube e... No, non voglio condividere un cacchio. No, perché la cosa figa... La cosa figa di questi video è che se li metti su TikTok prendono un sacco di mi piace. Mr.Bandor, se ci sei su TikTok lo conosci come social, voglio confrontarmi con qualcuno che lo conosce, perché io lo solo ho conosciuto da poco e devo dire di essere molto, 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 molto sconvolto da quello che ho visto là sopra. Facciamo un'altra partita o vogliamo cambiare gioco? Cambiamo il gioco, dai, ora mettono il controller Giovanni, mettiamo V2. Non lo usi, ma lo conosci, dai, mi hai visto, ci sei mai stato sopra, no? Perché è una cosa... Ah, vogliamo mettere VV2. Abbiamo perso il video. Senti una cosa, Mr.Biondo, non mi dire niente, insomma, se no ti scocci se giochiamo a VV2, ti fa piacere vederlo. No, mi hanno detto che è molto cringe TikTok. Sì, sì, no, lo è proprio tanto, proprio tanto, cioè, credimi, è una cosa, ma nulla di quello che potresti mai pensare ti può preparare. Cioè, il problema non è da cringe, infatti, cioè, cringe è un elemento, il problema è che è proprio trash. Cioè, una cosa che tu la guardi è come se raccoglisse tutto il male del genere umano, tutto concentrato lì. Mi sa che ora vado a giocare un po' a LOL. Ah, va bene, Mr., allora buona partita, grazie per essere passato, ci ha fatto piacere vederti qui da queste parti. Allora, quando vuoi, tu lo sai, insomma, gli orari nostri, alle 21 e 30, ci trovi sempre in live in multiplayer, se no al pomeriggio, dalle 5, alle 6, alle 7, più o meno intorno a quell'orario, c'è sempre almeno qualcuno di noi in live, ok? Grazie per essere passato, buona partita a LOL, è stato un piacere, ciao!